ecco sta arrivando il treno io dico che viene da là è in arrivo al binario 1 binario 1 allontanarsi dalla linea gialla ecco l'avete capito? allontanarsi dalla linea gialla vediamo che arriva il treno ma però il binario 1 è quello no è questo mio amore questo che sta qui vicino a noi siete pronte? si si tranquilla a dove arriva sto treno? io dico dall'altra fermi che vado a vedere vado solo a vedere non mi avvicino alla linea gialla bene è pronta? sta arrivando il nostro treno eccolo qui è blu dai dai dammi le mani datemi le mani tutte e due mi deve dare tanto si ferma nonna oh nonna vieni qua per favore tranquilla nonna non sto alla linea gialla guarda sta arrivando il treno nonna sei pronta per andare in treno? siete pronte bimbe? ecco il nostro treno ecco il nostro treno